Mino Borracino, assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico, sostiene Massimo Paolucci del Partito Democratico, candidato alle europee del 26 maggio, il suo slogan con i socialisti europei per rifondare l'Europa. Perché Paolucci? Paolucci, lo stiamo chiedendo con forza perché è una persona che si è dedicato per il Sud. Oggi il Sud ha bisogno di una difesa, non esiste più una questione meridionale, le distanze si acuiscono sempre più fra il Nord e il Sud. Questo modello di governo della Lega e del Movimento 5 Stelle avvantaggia le regioni del Nord. Non credete alle divisioni all'interno della maggioranza tra Salvini e Di Maio, lo stanno facendo soltanto per motivi elettorali, per accaparrare qualche piccola percentuale in più. Dopo le elezioni torneranno di nuovo insieme a governare come hanno fatto in questo anno. L'alternativa di centrosinistra è questa lista unitaria dei socialisti, dei socialisti europei dove si candida Massimo Paolucci. Massimo Paolucci è persona di esperienza, in questi anni si è impegnato sui temi dell'axilella, sui temi ambientali, è stato sempre nella nostra regione, ha un sostegno forte di articolo 1, una formazione di sinistra, un partito di sinistra. Noi qui in provincia di Taranto e in tutta la Puglia lo stiamo sostenendo con forza, contiamo a rieleggerlo per difendere gli interessi della Puglia, del mezzogiorno e soprattutto del sistema delle imprese meridionali che se dovesse passare la nuova programmazione europea rischierebbero di subire una grossa penalizzazione. Ecco perché un voto ad un uomo del sud, ad un uomo di sinistra, ad un uomo esperto, ad un uomo che difenderà sicuramente come ha fatto già in questi cinque anni, non deve dimostrare più nulla, le ragioni e gli interessi dei meridionali che in questi anni, soprattutto con questo governo, sono stati spesso e volentieri dimenticati.